Ciao ragazzi, io sono Falco Nero e oggi sono qui, anzi siamo qui per fare un video su GTA V visto che lo avete chiesto in molti e in questo video ovviamente cazzeggeremo violentemente sperando che succeda qualcosa degno di essere proposto in un video su YouTube e prima di cominciare ci tengo a salutare il nostro amico XSpock3 che ci segue ormai da quando ho aperto il canale per cui ci tenevo particolarmente a salutarlo per cui beh, direi che possiamo iniziare che cazzo di attività è? Metti sotto la gente dobbiamo fare l'istigazione alla violenza se non posso averlo padre maronno ma che cazzo di gente gira io salgo, vai salve anche lei qui? è un lavoro, è un coso, un procione ma che scena è? sono stato tirato in macchina come una puttana tu guida, tu guida tu guida ma che... si hai visto? l'abbiamo chiamata l'avventura in GTA con un perfetto sconosciuto poi è un animale vai padre maronno non so chi tu sia ma so che prima o poi vedrai questo video oddio mio sta succedendo il delirio ma qui dai 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 fuga 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 tutto è retro tutto è retro poi sta in pigiama facciamo il delirio padre facciamo il delirio padre mi sembra di stare tipo in una notte da leoni che conosco gente gente random aiuto vai padre vai padre seminiamo il panico padre oddio no c'hanno bucata la roda corri padre via sull'elicottero sull'elicottero padre sull'elicottero oh ma questo è un grande chiunque tu sia scrivici si infatti lo voglio troppo conoscere seminiamo il panico madonna mia io voglio andare a prendere il caccia a bombardiere con lui che secondo me se la tagliamo a livelli folli se questo prende il caccia visuale dall'interno dell'abitacolo mi sa che sta andando all'aeroporto a prendere il caccia grande padre ma perché stai mutando ma che cazzo no questo questo è veramente un grande oddio vai padre no 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 stavo dicendo è anche bravo a guidare l'elicottero niente a terra padre a terra se mi senti a terra padre corri 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 se muoio adesso mi sparo in bocca ah seguiamo seguiamo perché è il culone che non mi fa correre ma perché saltello su eccomi 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 padre padre oddio maronno io riesco di sentirmi male maronno dove stanno maronno il caccia ma come è questo perché spari alle porte maronno maronno ma sta in ciabatte maronno 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 perché non sale levala ecco niente l'avventura più improbabile ma che cazzo faccio no 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 ma per niente l'attrazione dove è padre andata a quel paese non sopravviveremo mai padre si dice che non si riesce oh no oh ecco nooo che amarezza che amarezza cosa si ripresenta in macchina rito fino a domani grande padre andiamo andiamo carino moce bene andiamo andiamo a piano qualcosa dai ma ci diamo no no padre ci sta ci sta andiamo padre ci sta io non so dove devo andare padre ma vaffanculo aiuto compagni di server compagni di server questo questo no perché mi ha ammazzato lui hanno ucciso hanno ucciso il mio migliore amico di gta l'avevo conosciuto da un minuto ma già lo amavo con le sue mutande e ciabatte padre ma nonno il suo faccione peloso che è lui che sta saltellando in giro per la città padre ma nonno cosa sta facendo ho beccato la persona più strana di gta padre maronno sta dando i numeri il video lo chiamerò la triste storia di padre maronno abbandonato io vorrei sapere chi cazzo è che c'ha sto microfono di merda padre maronno non padre saronno quello è l'amaro padre maronno continua ma perché sto tipo corre in giro per la mappa senza motivo saltando in mutande padre 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 dove va padre mi dica qual è il suo problema che le è successo padre che cazzo va a aver rubato la macchina tutto sto bordello via 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 fuga all'aeroporto ma che voglio andare all'aeroporto lasciatemi nooo come cazzo si entra all'aeroporto vado a piedi ma vedete tutti i coglioni ma perché è un sacco di patate adesso mi serve solo un aereo ma dov'è l'hangar io voglio un aereo neanche un elicottero non c'è niente che cazzo d'aeroporto è è nulla cosmico dimmi che è una rampa consigli merda dimmi che si apre nooo lì c'è un caccia aiuto nooo nooo ha sfasciato un caccia c'era uno col caccia vago più avanti lì vedo una porta vedo una porta ti ho detto che vedevo la porta l'abbiamo aperta via ma che posto è ma che posto è niente fuga in mare fuuga in mare fuuga in mare fuuga in mare Grazie a tutti.